ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video io sono wanzani tube e vi do benvenuto in questo canale prima di tutto iscrivetevi al canale attivando la campanellina in modo tale da restare aggiornati su ciò che pubblico in questo canale la maggior parte di ragazzi guarda video non si iscrive al canale non mette mi piace siamo a 155 iscritti se volete che il sottoscritto faccia lo spoiler sul canale arriviamo a 200 iscritti so che ho perso percorso abbastanza lungo non credo in voi non obbligatorio non è obbligatorio naturalmente vi parlo per tutti i tifosi milanisti juventini interisti napoletani bergabanschi laziale romanisti fiorentini bolognesi chi ne ha più ne mette il canale è gratuito ovviamente più siamo meglio è sono qua per esprimervi il post partita di svizzera germania e allo stesso tempo vi parlo anche di scozia unghieria allora prima svizzera germania una partita partita finita solo 11 onestamente non me l'aspettavo che la germania dovesse almeno come dire faticare con la svizzera sappiamo che la svizzera una di quelle squadre abbastanza toste da affrontare precisamente parlando del primo tempo di cui comunque al 17esimo minuto per fallo di ora non mi ricordo di musiala su ebisher il gol dato la germania ovvero firmato andric è stato annullato perché naturalmente quello un fallo netto e gol annullato per la germania di cui doveva essere in vantaggio e invece è stato annullato poi comunque la svizzera ce l'ha avuta le occasioni è proprio nel minuto 28 mi pare sì la svizzera si porta in vantaggio ragazzi perché assist di froe ler doi e cose batte noi e quindi il vantaggio per la svizzera per 1 a 0 da andoi e giocatore bologna e svizzera che conclude conclude la diciamo il primo tempo in vantaggio per 1 a 0 la germania comunque le occasioni ce le ha avute solo che non è stata abbastanza cinica ecco soprattutto quel tiro di toni cruz fuori dallo specchio e vabbè poi nel secondo tempo comunque la germania comunque si è fatta a vedere ecco con abbastanza delle dei cambi particolari ecco la germania comunque non si è resa anche perché il sottoscritto ha tifato germania per evitarla di affrontare agli ottavi di finale l'ho tifata per quel motivo lì perché se la svizzera avesse vinto contro la germania sarei incavolato nero perché naturalmente bisogna battere prima la croazia però questo è un dettaglio a parte la germania ragazzi all'ultimo minuto assist di reum colpo di testa di full krug ragazzi questo qua è l'uomo decisivo full krug è l'uomo decisivo a volte per la germania full krug può essere l'uomo decisivo attualmente gioca nel borussia Dortmund attualmente e avere uno come full club ragazzi non è male non è male per niente però ecco mi aspettavo un po di più dalla germania perché la germania ragazzi ve lo ricordo non batte la svizzera dal 2008 è in quella famosa amichevole per quattro reti a zero e quindi parlando della classifica germania 7 svizzera 5 venendo dall'altro campo ragazzi per scozia ungheria ragazzi è successo tutto l'impensabile di questo mondo calcistico perché ragazzi minuto cos'è 17 mi pare o vabbè durante la partita un giocatore dell'ungheria come dire crolla all'improvviso naturalmente tutto a posto tutto a posto perché comunque il giocatore sta bene è tutto in salute che adesso attualmente in ospedale ragazzi come comunque non me l'aspettavo comunque che successe succedesse un'altra cosa che che era successa ericsson nello scorso europeo contro la pillandia e me lo ricordo perfettamente era il 12 giugno del 2021 ed è successo il giocatore dell'ungheria ragazzi certe cose veramente fanno veramente venire il lo shock totale diciamo e l'ungheria ragazzi trova il gol ai minuti di recupero veramente verso la fine allo scadere praticamente e quel gol lì è veramente dedicato lui perché l'ungheria meritava di vincere questa partita qua la scozia non è che non se la meritava ecco le occasioni ce le ha avute però l'ungheria ci ha creduto di più e l'ha portata a casa e da vedere se sarà pescata fra le migliori terze del girone e comunque in questo panorama calcistico comunque ne succedono comunque di ogni perché non si sa mai non si sa mai perché con tutte le partite che si susseguono con tutte le amichevoli barra competizioni che ci sono il peggio ancora deve arrivare perché la prossima stagione la champions non sarà più martedì e mercoledì c'è anche giovedì quindi è tutto veramente una faticaccia incredibile per tutti i calciatori con tutte le competizioni nations league amichevoli champions league il campionato la coppa della propria nazione eccetera eccetera ragazzi è tutto è normale che poi dopo uno crolla in quel modo è normale penso di aver detto tutto in merito alle due partite che avevo citato vi ho parlato tenendo a noi ragazzi speriamo dopo perché dopo ci sarà pre partita di croazia italia il pre partita naturalmente di albania spagna perché allo stesso tempo lo guarderemo ci sarà anche la live e niente sperando in una vittoria almeno per stasera perché l'avversario si è ostico però non è impossibile nel caso dovessimo vincere contro la croazia o pareggiare e la spagna naturalmente sperando che non batta l'albania per carità affronteremo la svizzera agli ottavi di finale quindi ragazzi succulento 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 la svizzera avevamo già affrontata le qualificazioni mondiali di catar l'avevamo già affrontato l'ultimo europeo quindi ovviamente l'ultima per le qualificazioni in catar i mondiali non ne voglio parlare perché se avessimo battuto la svizzera saremmo stati nel girone in cui la svizzera aveva affrontato ora non mi ricordo oddio ma non mi ricordo il gruppo H mi parlo il gruppo G una roba del genere comunque non mi dilungo per troppo perché c'è altro da fare allora iscrivetevi al canale attivandolo il campanellino in modo tale da restare aggiornati su ciò che pubblico in questo canale la maggior parte dei due ragazzi guarda video non si iscrive al canale non mette mi piace siamo a 155 iscritti se volete che sottoscritto faccia lo spoiler sul canale arriviamo a 200 iscritti è un percorso abbastanza lungo lo so confido in voi naturalmente non è obbligatorio però iscrivetevi parlo per tutti voi tifosi milanisti gioventini interisti napoletani bergamaschi laziali romanisti fiorentini bolognesi chi ne ha più ne metta il canale è gratuito naturalmente più siamo ragazzi meglio è da OneSanitube è tutto ciao grazie a tutti